È un progetto di legge che parte da lontano, presentato all'inizio di quest'anno, poi ovviamente a causa Covid è stato interrotto l'iter legislativo, è stato oggetto anche di accorpamenti con altri test di legge, ma è un test originario perché per la prima volta in Abruzzo e probabilmente per la prima volta in Italia si dà seguito a un testo unico, un testo unificato che tratta tutte le dipendenze, non una singola dipendenza, quindi tutte le dipendenze patologiche, sia quelle dovute al gioco d'azzardo, sia quelle dovute allo shopping compulsivo, sia quelle dovute all'alcolismo e quindi abbiamo fatto questa legge quadro che parte da una premessa inquietante, ossia c'è una crescita esponenziale di patologie in Abruzzo e quindi noi abbiamo voluto favorire una legge che per la prima volta andasse a regolamentare queste patologie, favorendo anche l'inserimento di giornate di sensibilizzazione e una campagna di informazione importante e cercando anche di dare un sostegno economico a tutte quelle attività che in qualche maniera disincentivano l'utilizzo ad esempio delle attrezzature che possono portare a patologie per con sgravi fiscali.